buona lunedì mattina dal campo oleandri di alba adriatica va in scena la finalissima del torneo terre piccene per la categoria 2011 che vede affrontarsi totti socher scuola azzurra e club orimpico romano entrambe le squadre nelle prime partite del triangolare hanno vinto contro il pro calcio aurelio e allora questa è una finale a tutti gli effetti totti socher che ha vinto per 4 a 0 mentre club olimpico romano che ha vinto in rimonta per 2 a 1 e allora la vincente delle due sarà proclamata regina delle terre piccene per quello che è un torneo organizzato da sport in tour di promozione ic s associazione italiana cultura e sport un saluto da alessandro d'ambrosio di live sport academy e si comincia primo possesso per il club olimpico romano che ricomincia direttamente da magalotti sulla pressione della totti socher forse benissimo però rinvio usate calcio di punizione seguito perfettamente da giannetti che allora sblocca l'incontro direttamente da centrocampo sorprende la riccia 1 a 0 per il core che la sblocca al quarto minuto di gioco e fischio del direttore di gara va pantano guardate dove l'ha incastrato è un altro gol bellissimo quello di tommaso pantano 1 a 1 sul calcio di punizione il vantaggio del core sul calcio di punizione il pareggio della totti socher e allora poi una dedica di pantano al proprio pubblico con un cuore 1 a 1 pantano ancora prova in avanti poi pallone che viene messo in fallo laterale messa con le mani in avanti pantano controlla esce il core però con giannetti che calcia la risposta questa volta pronta di lariccia calcio d'angolo di pantano forte al centro del primo palo poi palmieri non riesce a ribattere in rete ancora pantano a un altro bacino al palo dopo la traversa la doppietta di pantano ribalta la partita 2 a 1 totti socher ancora tommaso pantano il campo serve sulla sinistra per giugliarelli qui intanto con i pugni deve allontanare magalotti nel frattempo nuovo entrato bifaretti a farà sportellate si gira giacinti che può andare in porta il 3 a 1 di giacinti e allora totti socher sculla azzurra che allunga sui propri avversari quando mancano 5 abbondanti al termine il risultato cambia ancora 15 al termine 15 secondi palmieri direttamente con le mani verso giacinti magalotti ancora ad impedire il gol del 4 a 1 alla totti socher e calcio d'angolo pantano direttamente verso il centro bifaretti con la testa non riesce a fare 4 a 1 ma non c'è più tempo la totti socher sculla azzurra è campione per la categoria 2011 del trofeo terre epicene